Guardi, è un po' che lo diciamo noi della Lega Nord che l'Europa non esiste, che l'Europa dal punto di vista dell'accoglienza, dal punto di vista di una strategia globale su un fenomeno che non è sorto negli ultimi mesi, ma ormai è qualche anno che va avanti, sostanzialmente è incapace di dare la benché minima risposta. E lo ribadiamo anche di fronte agli squilli di tromba del Ministro Alfano, che esulta perché in un mese ci sono stati 90 ricollocamenti di profughi dall'Italia all'Europa. Questi sono i numeri di fronte ai quali noi ci troviamo quotidianamente, ci troviamo ormai da tempo. Lo diciamo e lo ribadiamo, l'Europa sinceramente non si riesce a capire che funzione abbia, che non sia quella di stabilire quanto latte o in polvere oppure liquido vada nei formaggi e quanto di conseguenza di fronte a questioni di questo tipo, e lo chiedo soprattutto, va bene non sono presenti, comunque facciamo una domanda aperta agli esponenti del governo, ma per quanto abbiamo ancora intenzione di prendere in giro, innanzitutto i nostri cittadini, dicendo che sì adesso in Europa, perché guardi, quanti summit internazionali sono stati fatti in Europa sulla questione degli immigrati? Più o meno uno al mese. Cioè lei dice che l'Europa prende in giro gli stessi cittadini europei proprio per questo? Ma certamente, è una presa in giro nei confronti delle centinaia di milioni di cittadini europei che si trovano in un processo di integrazione europea che ormai dovrebbe avere 20 anni e si trovano in mezzo ad un guado, cioè l'Europa è incapace di gestire qualunque tipo di problema.